Grazie al programma CERV, l'Unione Europea promuove e protegge i valori di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto. Attraverso il suo ampio raggio d'azione e il sostegno a iniziative volte a rafforzare il tessuto sociale civico dell'UE, il CERV è uno strumento essenziale per costruire un'unione più coesa, resiliente e democratica. Il programma è ereditato ed ampia quelli precedenti ed ha a disposizione un budget considerevole per il settennio 2021-2027. Enti della società civile e altri attori a ogni livello possono accedere a questi finanziamenti per progetti che stimolino la partecipazione civica e tutelino i diritti e i valori europei. Per saperne di più partecipa al prossimo appuntamento con lezione d'Europa il 29 febbraio. Modalità di partecipazione in descrizione.